Gli strumenti di diagnosi ormai fanno parte delle officine meccaniche ovunque perché l'elettronica è in tutte le autovetture. Qui al Marconi c'è un accordo con Fortec, Fiorenzo Tirotta è uno dei titolari, tra l'altro un'azienda del territorio che produce questi computer per le macchine, li possiamo definire così? Certo, sono computer per le vetture, nello specifico questo strumento dove l'autodiagnosi non arriva, perché normalmente noi siamo abituati a parlare di autodiagnosi che fa la diagnosi direttamente sul veicolo, quando l'autodiagnosi fornisce quello che è un codice errore, dove è relativo a quello che è un guasto del veicolo, noi non sappiamo il componente che va ad interessare realmente, se quel componente è rovinato oppure no. Abbiamo una strumentazione, questa strumentazione fa la diagnosi del componente quando il componente può essere scomposto dal veicolo, per cui se io smonto il componente elettromeccanico e elettronico, a banco riesco a fare i test del componente vero e proprio. Infatti ha suscitato molto interesse questo prodotto per i costruttori di componenti, che oggi c'è un'azienda che ci supporta anche in questo progetto scuola lavoro, che si chiama Mea Tedoria, un'azienda di Torino, una multinazionale italiana, con sedi dislocate in tutto il mondo, di produzione componenti, che lo utilizza come controllo qualità presso la propria struttura. Ecco, voi qui portate veramente quello che è il mondo del lavoro in classe e date modo al Marconi di preparare degli studenti che usciti di qui possono andare tranquillamente subito a lavorare in officina, tra l'altro avete portato anche componentistica per le macchine elettriche, quindi siamo al passo coi tempi. Sì, siamo all'avanguardia, vogliamo fare una cosa importante sul territorio, visto che noi siamo del territorio, avvicinare quello che è il mondo della scuola al mondo dell'autoriparazione, far incontrare i ragazzi all'interno della scuola con quello che sono gli autoriparatori, i carrozzieri, i gommisti, i centri di revisione, in maniera che si possano conoscere e magari anche a volte fare delle gite presso le aziende come abbiamo fatto qualche anno fa e facendo vedere tutto quello che sono i percorsi di produzione di attrezzature in maniera che possano capire quello che circonda questo mondo, il mondo dell'autoriparazione, per cui il mondo della diagnosi, il mondo dell'elettronica applicata ai veicoli. Questo secondo me è una cosa molto importante per i ragazzi per poter capire in che dimensioni si trovano, cosa che peraltro fino adesso la scuola è stata un pochino indietro con quello che sono i tempi. Infatti, come dicevi prima, mi collego al tuo discorso, abbiamo un pacco batterie per i veicoli elettrici, per cui come sono le batterie per poter far vedere ai ragazzi di cosa stiamo parlando, quello che è un modulo scomposto del pacco batterie e alcuni componenti riguardanti, che ci ha fornito la Emet Doria, perché è un'azienda che costruisce componenti per auto di ultimissima generazione, per poter capire il funzionamento del componente vero e proprio. Grazie.